Pensando al mare e all'ambiente, ho immaginato cosa potrebbero dire gli abitanti del mare su quanto l'inquinamento abbia reso indivibile i loro luoghi. Ci racconterebbero le loro avventure, dei predatori naturali che evitano lungo la via e delle diverse specie che incontrano ogni giorno. Ma ci chiederebbero, perché facciamo loro questo? Perché li confiniamo a vita in gabbie sovraffollate a nuotare in cerchi infiniti senza niente da vedere o da fare, dando loro, infine, una morte dolorosa. Così la mia mente ha iniziato a immaginare un possibile dialogo tra le creature del mare e il mare. Così la mia mente ha iniziato a immaginare un possibile dialogo tra le creature del mare. Così la mia mente ha iniziato a immaginare un possibile dialogo tra le creature del mare. Così la mia mente ha iniziato a immaginare un possibile dialogo tra le creature del mare. Grazie a tutti. 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 In questo momento la mia vita è circondata da gabbie che io non vorrei, cerco anch'io come te la libertà, ma tu non mi ascolti e te ne stai là. Aiutaci, aiutaci, aiutaci. Se aiuti me, aiutami, 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 aiutami. Aiutami, aiutami, aiutami. Grazie a tutti. 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 Corri, pesciolino. restassi qui, è per questo, è per questo che sono stato creato. per essere la tua, per essere la tua casa, ma se resterai qui, morirai. devi andare via. così salva, così salva la vita avrai. i miei amici. I miei amici tornassero a vivere in un mare limpido. in un mare limpido. come vorrei che molti di noi non avessero ingerito plastica, che le spiagge non fossero invase da quei rifiuti tossici, che sono come gabbie, che sono come gabbie per noi. in questo mare, senza età, restiamo intrappolati, senza riuscire a muoverci. in un mare, senza riuscire a muoverci. come vorrei che nel mondo ben presto gli umani capissero che non c'è tempo, che la vita è preziosa per tutti gli esseri viventi al mondo. che siamo creature speciali in questo mondo. esseri siamo creature speciali in questo mondo. 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 il pesciolino si addormenta e nel suo viaggio, cullato dalle onde, sogna un mare limpido e puro. lui nuota sereno e non gli sembra vero. nel mare e nel sogno c'è una gran festa. perché gli umani hanno compreso il senso di ciò che hanno fatto e reso il mare di nuovo un posto vivibile per i suoi abitanti. in questo mondo. 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 grazie a tutti. Ma il pesciolino si sveglierà e al suo risveglio di questo sogno cosa ne sarà? Sta a noi aiutarlo con il nostro agire per rendere il mare un posto in cui gioire. Grazie a tutti. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.